Nel congresso regionale tenutosi a Cepagatti, la Copagri Abruzzo Confederazione Produttori Agricoli ha rieletto la sua classe dirigente con Camillo D'Amico alla Presidenza, Vincenzo Italiani alla Vicepresidenza Vicaria, Leo Spina, Aquilino Mancini, Gianni Padovani e Mario D'Angelo, componenti la Giunta Esecutiva. Ricco è partecipato il dibattito sia con gli interventi dei delegati che di quelli delle altre organizzazioni agricole e sindacali, oltre a quella dell'assessore regionale al lavoro e alle politiche sociali, Marinella Sclocco, che ha sostituito il presidente D'Alfonso e l'assessore alle politiche agricole Dino Pepe, assenti per ragioni di natura istituzionale. Con la rielezione degli organi dirigenti a livello provinciale e regionale, anche qui in Abruzzo abbiamo una classe dirigente legittimata che può serenamente riprendere un cammino che tenderà a salvaguardare gli interessi concreti della numerosa base associata, ma guarderà sempre di più alla possibilità di avere un'unità vera con le altre sigle del settore e, per coerenza, da subito avanzeremo una formale proposta di adesione al cartello delle sigle operanti all'interno del Lagri Insieme, ha commentato il neoeletto presidente regionale Camillo D'Amico. Punteremo da subito a creare un coordinamento regionale di donne e uomini imprenditori, agricoltori giovani, sia per creare concrete premesse di un ricambio futuro, anche nella classe dirigente, che per certificare una delle nostre priorità nell'azione sindacale che intendiamo portare avanti, ha aggiunto lo stesso D'Amico. Punteremo decisamente le nostre principali attenzioni nel contribuire a creare filiere produttive nei comparti dell'olio extravergine d'oliva e del vino, senza dimenticare l'importanza delle aree interne che soffrono di un sistematico spopolamento e abbandono produttivo che stanno demolendo vaste zone che non hanno più alcuna forma di manutenzione.